Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con tutta la lunga route di Yuri Oggi punteremo invece a quella di Natsuki E penso che per completismo, prima di andare avanti con la storia vera e propria Di fare tutti i capitoli secondari Ho dato solo un'occhiata online per vedere quanto durano e ogni episodio non dovrebbe durare tantissimo Quindi penso che parte 1 e parte 2 li farò ovviamente collegati Anche perché se no se aggiungiamo anche questi altri 8 episodi non la finiamo mai Quindi iniziamo scrivendo una poesia per Natsuki Cucciolo, Doki Doki, Puff, Cuffie, Lecca Lecca, Giro Tondo, Kawaii, Glitter, Marshmallow, Vaniglia, Grazioso Caramella, Capriola, Bup, Calzini, Frappe, Bacetto, Nuvolette, Parco Giochi ed infine Fiaba Oh, e poesia perfetta per Natsuki fu Ciao di nuovo Geko, ciao di nuovo anche a te Ah, sento un sospiro esasperato di Natsuki del ripostiglio Sembra infastidita da qualcosa Mi avvicino, forse ho bisogno di una mano Cerchi qualcosa lì dentro? Accidenti a Monica, non rimette mai a posto le mie cose A che serve? Tenne una collezione bene in ordine se poi passano gli altri a scombinarla Natsuki fa scorrere una pila di libri e cofanetti sullo scaffale Manga Tu leggi manga, vero? Ah, ogni tanto I manga sono una di quelle passioni che non puoi ammettere finché non capisci come la pensa l'altra persona Solo se sei una persona insicura di te stessa Come facevi a saperlo? Ho sentito che ne parlavi un giorno E poi ce l'hai un po' scritto in faccia Come sarebbe a dire? Capisco C'è un volume di manga che spunta solitario tra una pila di libri dall'alto di uno scaffale E incuriosito lo tiro fuori dalla pila Ecco dov'era Natsuki me lo strappa di mano Poi si volta verso il cofanetto di manga e infila il volume in mezzo agli altri Ah, molto meglio Un cofanetto senza un numero è lo spettacolo più irritante del mondo Conosco quella sensazione Guardo da più vicino il cofanetto Parfagirl? È una serie di cui non ho mai sentito parlare Delle due l'una O non è proprio il mio genere O fa davvero pietà Se vuoi giudicare fallo fuori da quella porta Indica la porta dell'aula Ehi, non stavo giudicando Non ho nemmeno detto niente Si sentiva dal tono della voce Ma ti dirò una cosa Gekko Considerala una lezione del club di letteratura Non giudicare un libro dalla copertina Anzi, Natsuki estrae dal cofanetto il primo volume di Parfagirl Ora ti mostro il perché Mi ficca il volume in mano Ah, fisso la copertina Ci sono quattro ragazzi con vestiti colorati in pose femminili da cartone animato È fastidiosamente grazioso Non sta a te lì imbambolato Ma che... Natsuki mi afferra per un braccio e mi trascina fuori dal ripostiglio Poi si siede contro il muro sotto una finestra Batte una mano in terra accanto a lei per farmi segno di sedermi lì Due sedie non sarebbero più comode Mi siedo Le sedie non vanno bene Non potremmo leggere insieme Eh, perché? Eh, credo che sia più facile stare vicini così Eh, non dire così La fa sembrare una cosa strana Natsuki incrocia le braccia e si allontana appena un po' Scusa Neanche io mi aspettavo di sedermi così vicino a lei Non che sia poi una cosa così brutta però Apro il fumetto Pochi secondi dopo Natsuki si avvicina di nuovo Sperando che io non mi accorgo che ha recuperato terreno La sento che sbircia da sopra la mia spalla Molto più ansiosa di me di iniziare a leggere Wow, è da un sacco che non leggo la prima parte Eh? Tu non torni mai indietro a sfogliare vecchi numeri? Non proprio Forse qualche volta Ma quando ho finito la serie? Ehi, ma sei attento almeno? Eh... Sì, ma non è ancora successo niente Quindi posso parlare mentre leggo Parla di un gruppo di amiche al liceo Il solito spaccato di vita Non mi piacciono più come una volta È raro che la scrittura sia abbastanza interessante Da compensare l'assenza di trama Allora... Cosa devo aspettarmi? Ci sarà una trama? Beh, ma certo Pensi che mi piacerebbe qualcosa senza trama? Cioè... Beh, credo di sapere cosa intendi All'inizio la storia parla di cose semplici Tipo c'è un capitolo davvero divertente Dove sono ossessionate da un ragazzo in gelateria Ma è solo per conoscere i personaggi E comunque è interessante lo stesso Ma poi si fa tutto più intenso Come quando spiega tutti retroscena E quando cominciano le trame romantiche È lì che diventa davvero bello Ci sono molte parti davvero toccanti Interessante Vedo che te ne intendi Forse ti ho sottovalutato Ehi, aspetta E questo cosa vorrebbe dire? Ma che... Natsuki, mi dai una spintarella Volevo dire che non ho ancora visto tutto il tuo potenziale Eh, ti sei salvato in coroner Ah, questo capitolo parla di pasticceria Tiro a indovinare C'è molta pasticceria in questo manga Beh... Natsuki, si ferma un istante Come se non volesse ammettere qualcosa Già Perché è importante? Non lo è Ero solo curioso Visto che anche a te piace la pasticceria, giusto? Eh, è solo una coincidenza Per caso ho iniziato a cucinare dolci Più o meno nello stesso periodo In cui ho preso questo manga Figurati se faccio qualcosa Solo perché è in un manga Le persone così suggestibili Mi fanno pena Ah 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 Di sicuro non è una coincidenza Questo spiega l'interesse di Natsuki Nella pasticceria Però di tutti gli hobby Ha imparato da un manga Di sicuro è uno dei migliori E poi è davvero brava Perciò, chi sono io per giudicare? Oh, che cosa caruccia Continuo a leggere per qualche altro minuto A questo punto ho finito un paio di capitoli Sei sicura che non ti stai annoiando? No Anche se mi stai solo guardando leggere? Beh, a me sta bene Se lo dici tu Immagino sia divertente Condividere con gli altri qualcosa che ti piace Io mi emoziono sempre Quando convinco un amico A seguire una serie che mi piace Capisci cosa intendo? Eh? No? Eh? Non è... Beh, davvero non saprei Che vuoi dire? Non condividi i manga con gli amici? Potresti non farmelo pesare? Eh dai Ah, scusa I miei amici non lo leggerebbero mai Per loro i manga sono roba da bambini Appena ne parlo dicono cose come Eh? Ma legge ancora quella roba lì? Mi viene voglia di prenderli a pugni in faccia Da, conosco quel genere di persone Davvero Già è difficile trovare amici che non ti giudicano Figurati amici appassionati Io sono abbastanza nerd Perciò mi sono ritrovato con amici dei miei gusti simili Ma per una come te deve essere più difficile Eh? Sì Direi che hai ragione Aspetta In quale parte? Mi sento come se non potessi nemmeno tenerli in camera mia Non so nemmeno cosa farebbe mio padre se li trovasse Almeno qui nell'aula del club sono al sicuro Anche se Monica me l'ha fatto pesare Uffa Non me ne va mai bene una eh? Beh alla fine è servito no? Cioè ora siamo qui a leggerli Non è che questo risolve i miei problemi Forse Ma almeno ti stai divertendo no? Eh? Eh? Allora Uffa Basta così Allora Continui a leggere o no? Ok ok Volto pagina All'improvviso Natsuki inizia a ridere Oh che carrucetta Questa me l'ero proprio dimenticata Natsuki tocca una vignetta con un dito Minori è il mio personaggio preferito È così sfortunata che fa tenerezza E poi è ancora peggio quando Non dovrei parlarne ancora Finisci il capitolo dai E dai La voce di Natsuki trabocca di entusiasmo È molto diversa dal solito tono imperioso Ma se non è abituata a condividere il suo manga preferito con gli amici Capisco perché È difficile esprimere parole Le sensazioni che provi quando formi un legame del genere E poter dare questo a Natsuki A cui non succede mai Il pensiero mi fa sorridere tra me Ok gente Eh? Siete tutti pronti per la poesia di oggi? Oh e dai È il tempismo peggiore del mondo Scusa Devo essere sicura che ci basti il tempo Anche se siete proprio carini così accoccolati Ah 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 Eh? Ah All'improvviso Natsuki si accorge di quanto mi sta vicino Mi fretta e furia Scivola via in mezzo metro di distanza Per ora mi fermo qui Chiudo il volume E lo porgo a Natsuki Me lo restituisci come niente fosse Non vuoi sapere cosa succede dopo? Ah Sì ma Monica ha appena detto che Non fare lo scemo Portatelo a casa Eh? Ma a te sta bene Lo dico soprattutto perché non ho tutta questa voglia di impiegare il mio tempo libero per leggerlo Beh ma certo Ci metterei un'eternità a finirlo se non lo porti a casa Finiscilo prima di domani così possiamo iniziare con il prossimo E se mi pieghi le pagine ti uccido Entro domani Per finirlo dovrò perdermi le miserie preferite Ma direi che ne vale la pena per vedere l'espressione entusiasta di Natsuki O forse temo cosa mi accadrà se non lo finisco Bene allora Mi alzo Torno dove tengo le mie cose e metto con cura il volume dello zaino A proposito ti sei ricordato di scrivere la poesia ieri sera? Eh hai voglia l'ho scritta tre volte ormai A chi mostro la mia poesia per prima? Ovviamente alla diretta interessata Ieri ho detto a Natsuki che era interessato alle sue poesie Forse è giusto che condivida la mia Forse è giusto che condivida la mia con lei prima Ah Ok cominciamo con le cose che non mi piacciono Anzitutto Natsuki rilegge la mia poesia Non importa non ho voglia di darti la mia opinione E allora perché dobbiamo condividerle? Ho scritto questa poesia quando avrei potuto fare altro Ah Anzi ricordi che ho detto che volevo leggere le tue poesie E quello che avevo in mente mentre scrivevo questa Voglio farti sentire abbastanza a tuo agio da condividere la tua Come ha detto Monica Beh sarei più a mio agio a condividere la mia poesia se la tua fosse davvero brutta Dovevi mostrarmi una poesia stupida così da farmi dire Ah beh non è gran che ora ti mostro io cos'è la vera letteratura E invece hai rovinato tutto Spero che tu sia soddisfatto Quindi in altre parole sto dicendo che ti è piaciuta La risposta piccata di Natsuki le si blocca in gola Ah se è così Tu non capisci proprio niente di niente vero? Te l'ho detto ora basta Non devi per forza strombazzarlo come se fossi tutto speciale Sono abbastanza sicuro che tu non l'abbia mai detto Lo dico quasi a me stesso Natsuki proprio non mi sopporta Ancora non capisco se è un bene o un male che abbia apprezzato la mia poesia Comunque devi ancora mostrarmi la tua giusto? Ah e va bene Solo perché altrimenti Monica mi costringe L'aquila sul mare Te l'ho detto che non ti sarebbe piaciuta Mi piace Cosa? Di la verità Lo sto dicendo Perché eri così convinto che non mi sarebbe piaciuta? Beh perché no Tutti a liceo pensano che per scrivere si deve essere tutti sofisticati Perciò nessuno prende sul serio quello che scrivo Ma le poesie non sono proprio fatte per potersi esprimere Il tuo stile di scrittura non toglie valore a quello che vuoi comunicare Sì proprio così Mi piace la roba facile da leggere Ma che ti schianta Come in questa poesia Vedere tutti gli altri che fanno grandi cose può essere davvero scoraggiante Perciò ho deciso di scriverne Sì ti capisco Ma l'altra cosa bella dello scrivere semplice è che quello che fai con le parole pesa di più Come quelle rime un po' irregolari che ti spiazzano Aiutano a tirar fuori il sentimento dell'ultimo verso È proprio così Ci hai lavorato più a fondo di quanto pensassi È così che fai una professionista Sono felice che tu abbia imparato qualcosa Non te l'aspettavi dalla più giovane del club vero? Già direi proprio di no Con quell'ultimo commento decido di secondarla Non mi importa dell'età di nessuno Ma se Natsuki si sente fiera Non sta a me a rovinarle la festa Giustamente Ora andiamo da Sayori Che non mi ha detto nulla di nuovo Andiamo da Yuri Che probabilmente mi dirà che non le piace Anche qui nulla di nuovo E infine Monica Ciao Geko Mi piace Geko Davvero? Non me l'aspettavo così graziosa Wow No 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 Non mi sembra quasi nello stile di Natsuki E anche lei è brava a scrivere Perciò consideralo un complimento Se lo dici tu Sì Ci sono molte poesie e storie Formate da poche semplici parole Possono essere divertenti Appassionanti Persino tristi E a volte contano solo pochi versi Possono sembrare scritte per i bambini Ma se ci rifletti Esprimono visioni del mondo In cui chiunque può riconoscersi Ok Stai dicendo che Natsuki è un po' così? Più o meno Non sarà forse un'esperta Ma nelle sue poesie Non trovi mai niente Ma nelle sue poesie Non trovi mai dei riempitivi Magari sembrano facili da scrivere Ma scavare fuori tutti i significati Diventa molto impegnativo Capisco perché vuoi esplorare Poesie di questo genere Sono sicuro che proverò parecchie cose diverse Ma ci vorrà del tempo Per acquistare sicurezza Va bene così Grazie per averla ascoltata Non sapevo che ci tenessi tanto a far colpo sul nostro nuovo membro Yuri Eh? Non era questo che... Ah Sei solo... Yuri si alza a sua volta Probabilmente sei solo gelosa che Gekko apprezzi i miei consigli più dei tuoi Ah? E come sai che non ha apprezzato di più i miei? Sei davvero così piena di te? Io... No Se fossi stata piena di me Mi sarei fatta in quattro per rendere lezioso tutto quello che faccio Ah? Ehm... È tutto a posto? Beh la sai una cosa Non sono io quella che è spuntata una misura di reggizione in più non appena arrivato Gekko Natsuki Ehm... Natsuki stai un po'... Tu restane fuori Come sono finito in questa situazione Non so niente di scrittura Ma la persona con cui mi schiererò probabilmente avrà un'opinione migliore di me Quindi ovviamente mi mostrerò d'accordo con... Ehm... Natsuki a questo giro Ehm... Yuri Hai del vero talento Eh? Beh... Ma Natsuki non ha tutti i torti Io penso che mi arrovello per trovare un'argomentazione Penso che anche comunicare i sentimenti in poche parole può essere una cosa degna di nota Lascia che l'immaginazione del lettore prenda il sopravvento E la poesia di Natsuki otteneva proprio quell'effetto Già! È così, vero? Ah 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 Ecco, visto quanto ne sai in realtà Non è... Natsuki, basta così Eh? Dice a me Ma lei è stata cattiva con me Natsuki parla con la voce lamentosa Senti È vero quello di cui abbiamo parlato ieri La scrittura è una cosa molto personale E condividere può essere decisamente difficile L'abbiamo visto oggi Anche la minima critica può portare un acceso di battito Guardo le mie spalle Sayori annuisce con forza Così Giusto, quindi non devi sentirti minacciata Sei una bravissima scrittrice Natsuki Ah La voce di Natsuki si blocca per la sorpresa Grazie per averlo notato Borbotta alla fine Quasi impossibile da udire Yuri Yuri mi guarda battuta Con quello sguardo non riesco a non sentirmi dispiaciuto anche per lei Sono certo che Natsuki non diceva sul serio Perciò non sentirti minacciata Beh Se lo dici tu Ehi Non devi mica sentirti in dovere di scusarti per me Geko Beh Natsuki inspira Io La cosa che Natsuki getta uno sguardo nell'aula La smettete di fissarmi tutti Prevedibilmente Natsuki è più in difficoltà di quanto affermasse Sayori e Monica distolgono lo sguardo Ah Comunque Quella storia del reggiseno Non dicevo davvero ok Tutto qui Natsuki distoglio lo sguardo Evitando di guardare gli altri negli occhi Già Tu sei bella di tuo Yuri Sayori Vado a fare del tè Eh Cercavo solo di aiutare Sono sicuro che ha apprezzato Sayori Le do una pacca sulla spalla Piccola stupidotta Bene Ora che abbiamo superato l'impasse Abbiamo letto tutte le poesie giusto? Spero che sia stata un'attività proficua per tutti Eh Hai voglia Soprattutto per te Geko E per essere sincera È un bel cambio di ritmo rispetto alle nostre solite riunioni Ah quindi è colpa mia del mio ingresso nel club se si è rovinata l'atmosfera No niente affatto niente affatto Manca ancora un po' di tempo prima di tornare a casa Perciò ci rilasseremo tutti Naturalmente facciamo attività legate alla letteratura nel club a parte chiacchierare Quindi potresti approfittarne per prendere un libro e scrivere qualcosa Dopotutto il club dovrebbe servire a questo Non sono d'accordo Monica Eh Su cosa? Non è questa la cosa più importante è il club letterario La cosa che conta di più È divertirsi Ma certo Beh immagino sia per questo che sia la vicepresidentessa Sayori Oh Monica non ha tutti i torti Stare nel club richiede un po' di impegno Ma finora direi che ne valsa la pena Oh altra poesia perfetta Così dal nulla qualcosa colpisce Sayori in viso per poi cadere sul banco Ah Aia Cos'è stato? Eh Un biscotto È forse un miracolo È successo perché ho pagato il mio contraccolpo Contrappasso In realtà ha quasi funzionato Stavo per dartelo Ma poi ho sentito parlare di cupcake Devo dire che ne valsa la pena per vedere la tua reazione Natsuki È molto gentile da parte tua Sono così felice Sayori abbraccia il biscotto Ma il tuo è il cioccolato Eh certo Perché pensavi che ti avessi dato quello? Eh va bene Comunque mi fa molto piacere che ti abbia condiviso questo con me Eh 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 Sayori si alza e va alle spalle di Natsuki Poi la cinge con le braccia Ah Eh dai Ho capito ho capito Con il biscotto ancora in mano Natsuki tende una mano per allontanare Sayori Gnom All'improvviso Sayori si sporge a dento al biscotto di Natsuki Ehi Sono serio Sono serio L'hai fatto Con la bocca piena Sayori torterà la via a distanza di sicurezza Eh Dopo poco Natsuki si avvicina trepidante Sì sì Non preoccuparti Ho mantenuto la promessa Tiro fuori dalla cartella Il primo volume di Parfagirl Natsuki me lo prende dalle mani Poi lo rigira rapidamente Come per controllare se ci sono pieghe Ehi Non sono così sbadato Maneggio manga continuamente Volevo solo essere sicura È normale che non sia È normale che sia un po' paranoica Non affidami a manga il primo che passa Sai Hai ragione Ci sto Beh comunque ora lo rimetto a posto Ti porto il prossimo ok Natsuki si avvicina al ripostiglio La seguo Adesso mi racconti per filo e per segno cosa ne pensi va bene Dov'è che finisce il volumetto Non me lo ricordo Ah il capitolo è finito con minori e Alice che trovano Monica La voce di Natsuki ricuona da dentro il ripostiglio Eh Dov'è un'occhiata dentro Tutti i libri di Natsuki sono allineati sullo scaffale più in alto Hai spostato di nuovo i miei manga Ah scusa scusa La prof si lamenta perché occupiamo troppo spazio Perciò ho dovuto spostare alcune cose e pulire un po' C'è ancora tutto L'ho solo riordinato un po' Ah Lo scaffale in alto è molto più al di sopra della testa di Natsuki Saltelle inutilmente per raggiungere i manga Uffa Così è davvero scomodo Adesso li rimetto tutti giù C'è spazio in abbondanza sugli scaffali E poi Fanno un bel effetto quando sono tutti in fila Perché sprecarlo sullo scaffale più in alto Ah Natsuki Usa lo sgabello Nel ripostiglio c'è uno sgabello pieghevole appeso al muro Vuoi che lo prendo io? Faccio da sola Natsuki afferra lo sgabello dal muro e lo apre Pensi che sia troppo bassa? Cioè Lo sapevo Beh la sai una cosa Sta a guardare Natsuki salta sullo sgabello Che si rivela un po' traballante Dato che è pieghevole Ah Attenta So cosa sto facendo In piedi sullo sgabello Natsuki arriva sullo scaffale più in alto Con le punte delle dita Non avrei problemi al posto suo Ma Natsuki è testarda come al solito Ah Con le dita Natsuki trascina pian piano uno dei cofanetti più piccoli Fino al bordo dello scaffale Disso? Ah All'improvviso il cofanetto si inclina Natsuki lo afferra al volo Lo sgabello vacilla Ah Natsuki perde l'equilibrio e salta giù dallo sgabello Per fortuna riesce a rimanere in piedi Tiene il cofanetto in mano Trionfante Ecco qui Natsuki è un po' scossa per la scampata caduta Davvero Non devi dimostrarmi niente Comunque non puoi prendere i cofanetti più grandi in quel modo Io ci arrivo perciò Ho detto che faccio io Non voglio il tuo aiuto ok? Vado a prendere una sedia Tu aspetta qui Natsuki mi spinge via mentre esce dal ripostiglio Vediamo Le sedie dell'aula sono agganciate ai banchi e non entreranno nel ripostiglio Ah Natsuki raggiunge la cattedra dove c'è una sedia d'ufficio La spinge sulle rotelline verso il ripostiglio È un po' rischioso visto che la sedia è girevole a rotelle Ma ho imparato la lezione e tengo la bocca chiusa Ush Natsuki sale sulla sedia poi lentamente si mette in equilibrio Dato che rifiuto il mio aiuto appoggio la schiena alle stipite e sto a guardare Ah che carina Ah ecco fatto Visto Adesso è facile Natsuki afferra una pila di manga e si china per sistemarlo sullo scaffale sotto Ah La sedia gira su se stessa Natsuki si appoggia sullo scaffale per non cadere Ma cosa fai? Non puoi almeno tenere ferma la sedia invece di star lì per niente Chi è che mi aveva detto di non aiutarla? Sì sì ti tengo io Tengo ferma la sedia mentre Natsuki torna ad alzarsi Riesco Riesco quasi a vedere sotto la gonna Mi costringo a guardare da un'altra parte Natsuki proprio non ci ha pensato Quando se ne accorge mi uccide Natsuki prende tra le braccia il cofanetto di Parfagirl il più grosso sullo scaffale Ah è pesante Ehi Geko Non credo di riuscirmi a chinare senza cadere Presto prendi questo Eh? Ma così dovrò lasciare andare la sedia Va bene Solo per un secondo Sbrigati Va bene Aspetta solo che mi alzi Lascio lentamente la presa della sedia Come sarebbe? Aspetta che mi alzi Natsuki abbassa lo sguardo su di me Perché sei là dietro? Eh? Natsuki sembra essersi appena accorta di qualcosa Ma se si muove perderà l'equilibrio Natsuki il cofanetto Dove stai guardando? Vuoi guardarmi le le? Natsuki tremano le gambe No è solo che Natsuki non provare a muoverti Dammi il cofanetto e basta Razzati pervertito Era tutta una tattica Vattene fuori di qui Ma faccio da sola Ah Improvvisamente la sedia gira su se stessa sotto i piedi di Natsuki Natsuki Ah In un istante si scatena il caos La sedia vola da sotto i piedi di Natsuki Cerco freneticamente di afferrarla Il cofanetto cade di mano e i fumetti volano dappertutto Presa Ah Natsuki cade su di me e finiamo a terra Un mucchio di volumetti mi arriva in faccia Natsuki si protegge con le braccia a terra di faccia sul mio petto Ah Il mio braccio destro e le mie schiena accusano il colpo Ah Lentamente Natsuki torna in sé Ah Si appoggia di peso su di me con le braccia per sollevarsi Eh Natsuki sembra accorgersi solo ordi o non trovarsi sul pavimento Ah Che schifo Che schifo Ah Mi arriva un pugno dritto in petto Poi Natsuki si alza in piedi Ma cosa credevi di fare Razza di maiale Va tutto bene lì Ho sentito un gran rumore All'improvviso Monica sbircia dentro Monica Visto cosa succede quando metti manga sullo scaffale fin alto Ma stai cercando di uccidere i membri del club Accidenti Scusa scusa Ah E un'altra cosa Pare che l'ultimo arrivato del club sia un completo pervertito Spero che tu sia contenta Io non Non so proprio come spiegare tutta questa strana situazione a Monica Non ho fatto niente lo giuro Lo so lo so non preoccuparti Monica me lo dice a bassa voce A quanto pare sono fuori dai guai Oh no I miei i miei Eh Abbasso lo sguardo Natsuki è inginocchiato a terra e tiene in mano uno dei volumetti sparpagliati dappertutto Sulla pagina c'è una lunga piega diagonale che lei sta disperatamente cercando di spianare Ah deve essere atterrato su quella pagina Natsuki prova ancora un po' a spianare la piega ma non ci riesce All'improvviso si arrende e chiude il volumetto con violenza Poi lo getta a terra Invece di riprendere a urlare abbassa la testa Eh Natsuki stai... No La voce di Natsuki è incrinata Vedrò le lacrime sul suo viso Ah ti aiuterò a togliere la piega ok? E anche colpa mia perciò Natsuki scuota la testa tenendo lo sguardo basso No Non ci tengo poi tanto È solo che Oggi per me è davvero una brutta giornata Natsuki si inghiozza di nuovo Oh Non volevo sfogarmi con te Davvero non volevo Non fa niente C'è qualcosa di cui vuoi parlare? Natsuki scuota la testa È solo che ogni giorno è così dura Vorrei solo Venire al club e... Natsuki resta di nuovo in silenzio Non voglio pressarla Quindi farò quel che so fare Va bene Ora ti aiuto a rimettere in ordine E ci penso io a spostare il resto dei manga Ah Prendo il volume 2 di Parfagirl Questo lo mettiamo da parte Saprà tirarti su di morale Dico bene? Possiamo leggerlo Non appena avrò finito tutto qui Natsuki alza lo sguardo con gli occhi lucidi Natsuki le trema il braccio Le trema il labbro Sei... Sei così gentile con me Eh? Sono parole strane per Natsuki Non me l'aspettavo Beh Siamo amici no? Natsuki abbassa la testa E soffoca un altro singhiozzo Non so bene cosa le sia successo oggi Ma essere gentili è il minimo che possa fare Restiamo un paio di minuti in silenzio Mentre comincia a raccogliere volumetti sparsi Sto attento a metterli nel giusto ordine nel cofanetto Dopo un po' Natsuki inizia ad aiutarmi Finiamo rapidamente E io poso il cofanetto sul ripiano che aveva scelto Natsuki Poi salgo sullo sgabello E sposto rapidamente il resto dei fumetti Dallo scaffale più in alto Così dovrebbe bastare Salto giù dallo sgabello Natsuki distoglio lo sguardo Grazie Non c'è di che Natsuki tiene in mano il volumetto che ho messo da parte Va bene sono pronto Bene E anche se non lo fossi ti costringerei Prenditi le responsabilità di quello che hai detto Quella cosa del tirarmi su di morale Se insisti Ci sediamo nello stesso posto dell'ultima volta E apro il secondo volume L'umore di Natsuki migliora rapidamente Ride e mi indica le vignette È davvero acuta Mi fa notare l'uso dei sottili tormentoni E degli altri dettagli Alla fine resto colpito dal modo in cui Diversi aspetti del manga si legano assieme Dopotutto Natsuki ha buon gusto Poco dopo come al solito Monica richiama la nostra attenzione È di nuovo l'ora di condividere le poesie Questo lo tengo io per ora Sì mi sembri più entusiasta questa volta Beh comincio ad appassionarmi Te l'avevo detto Ok ok Torno al mio posto e metto il volumetto nello zaino A chi mostro la mia poesia? Direi a Yuri a questo giro Oh ma guarda un po' non ci ha fatto leggere la poesia Proviamo con Sayori Niente di nuovo Proviamo con Monica Ciao di nuovo Geko È venuto piuttosto bene Trascori molto tempo con Natsuki vero? Il suo stile deve piacerti molto Oh sì Penso che sia un bel modo per raccontare una storia Ah sono abbastanza d'accordo Natsuki scrive poesie graziose Ma anche ricche di significato Capisco perché ti piace il suo stile Vorrei dire che non sei un grande fan delle poesie di Yuri Ah non direi proprio così Mi piacciono le poesie di tutte Ok ma alcune ti piacciono di più delle altre giusto? Come il modo in cui Yuri ha usato parole complesse e simbolismi O il modo in cui Sayori esprime l'allegra e tristezza in modo più diretto Avrai pure qualche preferenza no? Non che sia una gara eh Ero solo curiosa tutto qui Comunque vuoi leggere la mia poesia? Certo A chi mostriamo la poesia Alla diretta interessata Mmm Natsuki legge la mia poesia Continua a guardare me Poi di nuovo la poesia Ormai deve averla letta più di una volta Mmm E' brutta? No non è brutta E' bella E' davvero bella Ok Ecco l'ho detto Ah ci mancava solo questa Perché non puoi essere scarso e basta Dovrebbero essere le mie poesie a far colpo su di te Non il contrario Cerchi di fare colpo su di me? Ovvio Non mi lascierei mai mettere in ombra dalle poesie di Yuri Per cortesia Beh In tal caso non c'è problema se cerco di fare colpo su di te Ora te lo dico Tu Ah La faccia di Natsuki si blocca Come se si fosse appena reso conto di qualcosa Tutto Cerchi di fare colpo su di me Natsuki scruta con attenzione la mia poesia ancora una volta Poi la poesia scivola dalle mani e fluttuo fino al pavimento Ho notato appena adesso una cosa E non vorrei che sia un problema della traduzione O semplicemente se ne sono dimenticati Guardate nel ripostiglio C'è una sedia Ed è una sedia di un banco normalissimo Quelle sedie non sono attaccate ai banchi Devo andare in bagno Rosso in volto Natsuki esce in fretta dall'aula Ehi Geko Hai fatto qualcosa a Natsuki È solo che l'ho vista scappare così Non hai fatto niente di terribile vero? No L'ho solo detto che La voce mi si strozza in gola Non posso certo dire a Monica che sto cercando di fare colpo su Natsuki Eh? Monica vede la poesia sul pavimento e subito la raccoglie La scorre una seconda volta senza perdere il sorriso Ho capito All'inizio pensavo che ti piacesse solo il suo stile di scrittura Ma questa l'hai scritta per Natsuki, vero? Cioè Non proprio L'altro giorno le era piaciuta molto la tua poesia Dico bene Mi sorprende che tu conosca già così bene i suoi gusti Sei sicuro di non barare, Geko? Barare? Che vuoi dire? Non importa Sto solo scherzando Se era una frecciatina Non l'ho capita Credo che fosse un commento diretto a me Tranquillo Sì sto un po' barando Monica Non ti preoccupare Comunque Cosa pensi che provi Natsuki per te? Oh Non c'è bisogno che tu risponda Solo uno Spunto di riflessione Ehi Natsuki si avvicina e strappa la poesia delle mani di Monica Non ci eravamo minimamente accorti che fosse rientrata in classe L'hai letta Monica? Ma certo E mi è piaciuta Ah? Dovresti davvero smettere di leggere la roba che non è per te È un brutto vizio il tuo Eh? Ma questa poesia l'ha scritta Geko E qui condividiamo con tutti Giusto? Ah Natsuki si paralizza Ha dimenticato che la poesia tecnicamente è di pubblico dominio Ok beh Penso che Geko non voglia più condividere queste poesie con tutti E comunque Nessuno vorrebbe leggerla Anzi Diciamo che la tengo io Se insisti Cosa? Perché quella faccia? Quale faccia? Ah Lascia stare Beh la mia poesia la terrannazchi allora Non che io volessi conservarla Comunque adesso Leggi la mia poesia E no Non te la lascio È l'unica copia che ho Niente male eh? Eh già È molto più lunga di quella di ieri Quella era davvero troppo corta Mi stavo solo riscaldando Non avrei pensato che era il meglio che sapessi fare No Certo che no Comunque il messaggio di questa poesia è piuttosto diretto Non credo di dovertelo spiegare A volte si possono spiegare cose complicate con un'analogia molto più semplici E questa aiuta a rendersi conto di quanto siamo stupidi Ad esempio lo vedo tutti che il soggetto di questa poesia è un cretino ignorante Conosci persone del genere? Ma certo Parla di come tutti credono che la mia... Non importa Può essere qualsiasi cosa L'ho scritta perché tutti potessero identificarsi Tutti hanno un qualche hobby strano o un viziotto segreto Qualcosa che non vuoi che scoprano perché Ti prenderebbero in giro e pensano che non vali niente Ma questo è perché la gente è stupida Chi se ne importa di quello che ti piace Finché non fai del male a nessuno e ti rende felice Credo che tutti dovrebbero imparare a rispettare anche i gusti più insoliti Beh hai proprio ragione O almeno io mi ci riconosco E sono sicuro che sarà lo stesso per molti altri Sai Sono felice che apprezzi questo tipo di scrittura Cioè so che ne stavo parlando solo ieri Ma beh è stato bello condividere quello che scrivo con te Perciò considerati fortunato ok? Beh grazie della sincerità E questo cosa vorrebbe dire? Sono sempre sincera Ti giuro Aspettati qualcosa del genere anche domani ok? Va bene Ok gente Abbiamo letto tutte le poesie giusto? Minchia Torno a casa insieme a Sayori Dunque mettiamo che un giorno Natsuki ti chiedesse di tornare a casa insieme Eh? Tu cosa faresti? Ma che domande fai? Mi metti in difficoltà? Tornerei a casa con Natsuki ovviamente Tornerei a casa con Natsuki? Perché l'idea mi fa battere il cuore così all'impazzata? Cioè credo che avrei paura di come reagirebbe se mi rifiutassi Non è forse graziosa? Non è divertente stare con lei? Ma quest'ora che c'entra? Ah ah Allora lo ammetti E dai Tanto non ha nessun senso fare ipotesi su una cosa che non succederà mai Beh forse Ma mi piace pensarci Fra poco non avrei più bisogno di me sai Ah Sayori Allora lo ammetti